salve a tutte e tutti qui il vostro santin chan e da molto tempo che non faccio un video con la web camera una vecchia logitech del 99 ero riuscito a fare qualche video un anno fa circa poi non non ne ho più fatti perché mi filmo col cellulare però adesso vedo che non riesco più a fare lo streaming allora non so attraverso attraverso picasa magari riesco a filmarmi perché il software di questa web camera già non funziona più in windows 7 era di windows 98 seconda edizione questo con questo microfono da scrittorio di vecchia generazione analogico che ho comprato un anno fa e è un casino poi di giorno dovrei registrare chissà i video di che formato vengono piacerebbe vedere un po credo che la cartella cassa eccola qua sta in immagini però non so l'archivio credo che lo sta armando adesso sì ho trovato che sta chiudendo l'archivio mentre lo sta facendo 14 e 3 megabit adesso vediamo 14 9 sì quindi l'archivio è quello che sta scopendo adesso io sto guardando il mio video che volevo commentare il telegiornale lo riscopro adesso questo video e quindi forse lo condividerò con tutti voi vediamo bene non è molto pesante è un video che posso condividere con tutti voi sì adesso lo rititolo un ca un tan un tan e la legge elettorale era un video nel quale il capitan shantin chan guardava il telegiornale si filmava e commentava non ha detto quasi nulla che vogliono cambiare la legge elettorale il video e del 30 settembre 2013 e ancora adesso discutono della legge elettorale quindi quindi lo carico è incredibile è pazzesco non riesco a fare non riesco a fare una diretta incredibile vabbè fa niente come dire dovrò prima registrare ma tanto vedo che con questa cameretta vengono degli archivi molto piccoli 47 48 megabit beh questo è un video di prova per vedere se mi funziona la webcamera tanto vedo che vengono leggeri leggeri 6 minuti 43 megabit 44 megabit in 6 minuti 45 non so volevo commentare dei libri filmandomi così vedo che è un qualche cosa che posso fare anche se questa videocamera non c'è molto zoom vediamo un po' intanto si è pubblicato un video è uscito il video mi raccomando guardatelo è molto interessante vabbè no comment sto vedendo il video che ho appena caricato ammetto mi piace mi piace un'altra mattina filmando i miei saluti ciao ecco qua che è finito il video ne ho caricati tanti ultimamente di video ne ho caricati tanti e adesso caricherò i miei video messaggi ai miei sostenitori preferiti veramente questo è un video del 39 2013 quello che sto per caricare vediamo a che video associarlo la violenza negli stati il fenomeno ho parlato di un mucchio di cose ultimamente vabbè facciamo così all'ultimo di attualità è logico salve beh l'ultimo è Eccoci qua. 30.09.13 30.09.13 Ecco qua, ho chiuso, ho messo i dati. Ecco qua, ho chiuso. Beh, questa persona prova sta avvenendo una prova molto larga. Già sono 100 megabit. 13 minuti. Grazie. Beh, ho visto che non posso fare lo streaming. Oh, si è pubblicato il video. Wow, il gesto è caricato. Il video. Incredibile. Beh, adesso voglio... Visto che avete avuto la pazienza di seguirmi fino adesso... Vorrei parlare di qualcosa. Tanto questo è un video di prova. Magari chissà quanti di voi lo stanno seguendo. Dicevo, io in questi giorni ho caricato moltissimi video... perché sto facendo degli esperimenti con un editore che ho scaricato gratuitamente che si possono assemblare molti video per vederli contemporaneamente. Allora, ho anche riproposto delle registrazioni audio del venerabile lama Geshe Sonam Chanchub e delle sue lezioni. Ogni video in realtà è una pista audio che dura più di un'ora. Spero che vi possa essere di utilità, vi possa piacere. Sono delle lezioni sul Dharma. Qua è il video che ho appena caricato, che lo sto guardando. Io in realtà sto guardando la tele nell'ultimo video che ho caricato del Capitan San Tien Chan. E in realtà... commento solo qualcosa, però è interessante, è un ricordo del passato. Già per far capire a tutti voi come questo della legge elettorale si discute da... da più di un anno. Beh, adesso taglio. Ciao.